In questo programma importantissimo del mese di agosto qual è il ruolo della ConfCommercio? Innanzitutto c'è il ruolo fondamentale dei nostri operatori, perché per avere un lungomare vivo c'è la necessità che gli operatori si attrezzino anche da un punto di vista professionale. E questo piano piano sta avvenendo. Un esempio sono i corsi di formazione per barman, che ConfCommercio ha dato avanti anche insieme agli operatori del lungomare, i corsi di lingua inglese, che ConfCommercio ha mandato avanti con gli operatori. Quindi questi sono passi silenziosi e fondamentali e inevitabili per accrescere quello che è il valore anche culturale degli operatori, anche per dare una maggiore dignità agli operatori economici, operatori turistici, anche perché sono un po' il nostro front office nel momento in cui arriva il turista. Quindi c'è la necessità di presentarci al meglio e presentare al meglio anche quello che è il nostro territorio. Sto notando con piacere che sta cominciando a cambiare la mentalità nei confronti del turismo. No, come in tutte le cose bisogna lavorare. Lavorando poi si producono dei risultati. Quindi nel momento in cui si crea anche un'area di interesse comune, in quest'area di interesse comune iniziano anche trasversalmente gli enti pubblici, i privati, a convergere verso un unico obiettivo e allora si crea appunto quel progetto culturale di cui abbiamo tanto bisogno anche in termini e soprattutto anzi in termini di divisione. Non me ne voglia, per il momento lo sport è quello che attrae maggiormente i turisti qui a Crotone. Mi riferisco al calcio e alla vela, due discipline importantissime che richiamano veramente centinaia di persone. Sì, perché si è lavorato bene. Quindi se si lavora bene si producono risultati, se si lavora male non arrivano i risultati. C'è anche il contributo della tua organizzazione per far sì che i crotonesi possano godere di un agosto in musica e in divertimento. Cosa stai organizzando? Assolutamente sì, ovviamente mi è stato proposto dal comune di organizzare qualcosa insieme a loro e ho colto subito la palla al balzo. Tramite la mia agenzia di animazione, la Raffle Animation, abbiamo creato questo che nonché. Il 13 di agosto faremo un beach party in spiaggia, a se stante dove c'è praticamente il piazzale ultra, quindi sulla spiaggia libera, per tutti i crotonesi, beach party, schiuma party, tanti ospiti del mondo Disney, molti DJ di Crotone, quindi anche della Calabria. Stiamo creando un qualcosa che sia un evento estivo, definito music e fan, abbinandoci a un termine anglosassone, quindi creando qualcosa di divertente all'interno della spiaggia di Crotone. Anche tu gratuitamente con la tua organizzazione state dando un contributo al comune e alla città di Crotone. Assolutamente sì, ci siamo messi a disposizione, visto le situazioni un po' critiche riguardanti determinate situazioni economiche che non entro a dire cosa sono e quindi ci siamo messi ovviamente subito a disposizione per la nostra città ed è una cosa positivissima farlo.